Ciao, sono Savio e benvenuti da AppleTVBlack.com Benvenuti all'estrazione del sorteggio di un iTunes GIFT Card del valore di 20€ che abbiamo messo in palio questa settimana Abbiamo inserito in questa lista, ve la faccio vedere, i nominativi dei partecipanti che sono ben 71 I partecipanti sono stati inseriti anche i nominativi di Twitter per avere più possibilità per l'estrazione del premio Procediamo con l'estrazione che ovviamente viene in modalità random Ed ecco il primo estratto, il primo è unico Grazie a tutti di aver partecipato e buona fortuna Grazie a tutti